Continuano i sequestri di piante di marijuana in provincia di Vibo Valencia. Questa volta a scoprire la piantagione sono stati i carabinieri della liquota operativa della compagna di Vibo Valencia insieme a quelli della stazione di Vibo Marina e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria che durante il loro incessante lavoro di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti hanno individuato due fratelli mentre erano intenti ad innaffiare con un tubo collegato ad una botte trasportata su un furgonato due piantagioni con complessivamente quasi 400 piante dall'altezza variabile tra l'uno e i due metri. Si tratta di Leonardo e Giuseppe Fazio, entrambi quarantenni e con precedenti specifici residenti nella frazione di Longobardi di Vibo Valencia. I militari dell'ARBA dopo aver classificato la cannabis indica hanno estirpato e sequestrato tutte le piante arrestato i due colti in flagranza di reato.